ed è un altro personaggio che ha caratterizzato negli ultimi anni la scena della canzone napoletana facendo riferimento a un brano che è inserito nel tuo ultimo disco certo che avete fatto insieme come si chiama signori franco moreno auguri mauro un bel applauso a lui per i suoi 75 anni auguri per la sua bella carriera però se mi permetti un attimo fra due anni i miei 40 anni fra due anni però posso dirvi una cosa che quando si è cantanti che si sta in mezzo alla gente che la gente ci canta a me non mi sembrano 40 anni mi parlo mi sembrano 40 giorni è vero o no come ti sembra a me perché no non fumo da un paio di mesi hai fatto una bella cosa allora perché lui è un accadito fumatore due pacchetti due pacchetti al giorno e ricevo le vado vizi perché le sigarette fanno male e sono due mesi ma non ci capite niente troppo a mangiare la palla ma ora non vorremmo già addor farsi allora auguri a mauro nardi grazie a voi che state qua e visto che sto a casoria permettetemi un grande applauso a mauro caputo che ci guarda dall'alto e gli altri grandi che stanno ancora qua ci siamo vai 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 con l'alto e l'alto e il un barcaio purì, non ero innamorate ma per fatalità non traia esse io le ricette e ciao di dove sei, ma risponette su Palermitane io le ricette su Napolitane e non mi passai e mi abbracciai tu non mi ho ricette che a parte di parte se mi ho ricette tu mi conosci e sai un rispetto che la tengo per te io te rossi che ci dò una serie parla di chiare di maledità che il messore si venga assai c'era ben duro stasirne all'assai ma dove stai dicendo c'è tutta vita lì e a volte lì il tuo cuore come se fosse Santa Rosa lì e sono contento che si vada a spuse che era papà tra famigliati non c'è tua amica c'è tua nottata perché se a me sposano due con me e allora da me chiede non sa quattici intonise a volte lì la chiesa e non sa Dio di gioia vita mia e io sono felice e io sono felice che ci dò una serie parla di maledità che il messore si venga assai c'era ben duro stasirne all'assai ma dove stai dicendo c'è tutta vita lì e a volte lì il tuo cuore come se fosse Santa Rosa lì e sono contento che si vada a spuse che era papà tra famigliati non c'è tua amica c'è tua nottata perché se a me sposano due con me e allora da me chiede non sa quattici intonise a volte lì intacchise e non sa Dio di gioia vita mia e io sono felice e io sono felice grazie Mauro Nardi grazie 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 signori grazie 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 grazie